Il superale Roberto D'Alessio e Gualtiero Zannolini, loro ci hanno, sono traduti scout, che hanno nella loro prima vita scout in Agesci svolto dei servizi anche importanti, dei servizi, la Anna come capoguida della Gesci, Gualtiero come incaricato responsabile internazionale, poi ha ricoperto anche per tanti anni nell'OSM, nell'organizzazione mondiale dello scoutismo, un ruolo importante e Roberto nella formazione capi. E quindi loro tre quest'anno ci hanno aiutato come Masci in quel lungo cammino che è stato per alcuni di voi, per un centinaio di persone, che è stato un lavoro fatto con un seminario di lavoro e di studio proprio sull'educazione permanente, sugli aspetti metodologici per adulti, su tutto ciò che poteva essere riferito alla crescita dell'adulto scout con lo stile, con lo spirito, con i valori scout. Tra l'altro faccio un inciso, tutti i lavori di questo seminario che sono pubblicati sul sito, che sono a disposizione di tutti, sono stati anche messi in alcuni libretti di là sulla cooperativa Stade Aperte, quindi li vende chiaramente a poco, ma possono essere disponibili anche stampati se qualcuno preferisce leggersi le cose stampate. Ecco, loro tre ci aiuteranno a riflettere su questi temi. Roberto farà il provocatore tra un dialogo, è provocatore di natura, no per carità, farà il provocatore tra Anna e Gualtiero. Poi dopo ci sarà un lungo spazio per i gruppi di lavoro, però ne parlerà Mimmo successivamente. Quindi ascoltiamoli, li ringraziamo per tutto il cammino che ci ha condotto fino ad oggi, hanno tenuto in mano certamente la fatica di questo servizio e li ascoltiamo volentieri. Grazie a loro tre. Grazie Massimiliano. È un dibattito un po' strano, questa mattina è un po' strana perché non c'è un presentatore moderatore. Tu però dovresti metterti un po' Gualtiero, in modo anche da vedere noi, perché dobbiamo poterci mandare dei messaggi o interromperci. Non perdo molto, però. Ecco, voi potete manifestare, perché siete in tanti, potete manifestare con gesti, con... Beh, però potevi mettermi questo, un affarino qua. No, no, va bene così. È invidio. No, perché sennò devo fare più cose contemporaneamente e di solito ci riescono le donne. Ma questo non... Per continuare il discorso di Edo, per continuare il discorso di Edo. No, però è strano, no? Perché non ci saranno domande, non ci saranno dibattiti, dopo ci saranno i gruppi, non ci saranno conclusioni. Noi ci siamo preparati, ci siamo incontrati una sera, oltre quell'anno e mezzo di incontri della Commissione Metodo, con Maurizio Capitanata, da Maurizio Niero, da Anna Perala, in cui siamo stati convocati sia io sia Gualtiero. Ci siamo poi trovati per questo dibattito e ci siamo un po' messi d'accordo. Un po' no, un po' messi d'accordo, un po' no. Per cui vi spiego anche come funzionerà questo dibattito. E intanto Gualtiero è il nostro accademico. C'ha due lauree, si è laureato a Ginevra, anche ultimamente... Oh, sono cose vere, eh? Tra l'altro io credo che, sinceramente non l'ho detto, ma credo che Massimiliano mi ha scelto, perché anche Anna c'ha due lauree. Dunque io riequilibrio, riporto una media più vicina a... Allora, Gualtiero è quello che ha sistematizzato anche durante il lavoro di Commissione tutti i contenuti. Credo che si possa dire che anche i libretti che citava e il fascicolo che citava prima... Giusto, Maurizio? Il fascicolo che citava prima Massimiliano è opera al 90%, se non di più, di Gualtiero. Perché scrive, pensa, eccetera. Anna... No, tutti pensiamo, però... Anna, vedete, ho imparato in quest'anno e mezzo questo fatto. Anna lavora al Don Calabria con una sua fondazione, è a contatto con persone anche con disabilità e con problemi. E come sempre, quando si è a contatto per scelta o per situazione, con persone che hanno linguaggi diversi dai nostri, che parlano altre lingue, si diventa... o si va fuori di testa, si va in burnout e si va via, oppure si diventa molto bravi, molto bravi a unire questi linguaggi, a fare sintesi, ad ascoltare, a parlare con sistemi diversi, a comunicare con sistemi diversi, non solo con le parole. Anna sa fare questo molto bene. Noi tre ci eravamo conosciuti dai tempi, poi in quest'anno e mezzo, anche se molte riunioni o quasi tutte erano in remoto, erano in remoto, però... Per cui Anna, in questo nostro anomalo mattina, in questa nostra anomala mattinata, è in grado di fare molti esempi, è in grado di esemplificare anche dalla pratica, la teoria, dalla vita vissuta, scout e non scout, e questo sarà molto utile e molto bello. La mia funzione è quella di porre alcune questioni, alcune domande. E comincio dal titolo. Questo titolo mi ha ricordato in prima battuta un fatto che vi voglio comunicare. Quando il mio assistente storico che conoscevo è andato in casa di riposo e non celebrava più, io ho detto, perché no? Ho detto a mia moglie, andiamo a sentire cosa si dice nelle messe della città. E ho scoperto che molti preti, Don Angelo mi scuserà, gli altri che sono qui mi scuseranno, molti preti assemblano, uno esce dalla predica e dice, dall'omelia e dice, ho capito tutte le parole, ma che cavolo ha detto? Niente. Dopodiché io con l'esperienza dico, ma con tutti i libri che ci sono, dai padri della Chiesa, eccetera, perché quello lì non legge, non dice, signori oggi vi leggo cosa ha detto Sant'Ambrogio, bellissimo, sarebbe una cosa stupenda. Invece no, va a braccio. Allora, quando ho letto questo titolo, ho detto, ma qui sono andati a braccio, perché tutti sappiamo queste parole, ma che vogliono dire? E ho provato, e il titolo è, educazione in una comunità di adulti scout, che c'entra. Ora, faccio un po' il provocatore. Adulti scout, ieri è venuto fuori bene, no? Nella giornata di ieri, che l'adulto esiste. Attenzione, può esistere in due forme, età avanzata, barra anziano, oppure può esistere nella forma della persona consapevole di una maturità. Maturo. Cosa vuol dire? Boh, più costante, coerente, punto fermo per altri, maggiormente responsabile, non irresponsabile. Guardate, il concetto di maturità non era scontato. ieri però l'abbiamo bevuto dalle parole di Tarquinio e di Manicardi, come se fosse un assunto, ma io credo che la maggior parte degli italiani non condivide, non condivide, forse anche della cultura occidentale, ma qui ci siete voi, ma lo potete dire. Scout, ieri in pulma, anche la parola scout, che è più chiara, del titolo adulti scout è la cosa più chiara. Adulti scout è la cosa più chiara. però ieri, venendo giù, il responsabile internazionale del MASCI, Vavasori, mi ha detto che UOSM ha criticato il MASCI, i vari MASCI, per una presa di posizione fatta in nome dello scoutismo. Dunque, non è scontato. Certo, ufficialmente siamo scout, aderenti a un movimento scout di scout adulti, però usare questo termine è così scontato? Per esempio, io vi raccoglio, ieri c'era Agostino Migone, io sono vicepresidente della Fondazione Bade, la prima volta che ho parlato in Fondazione Bade, Gualtiero, io ho detto, ho radunato tutti gli ex scout, era una riunesse pubblica, gli ex scout di Monza, come me, subito Carlo Valentini, Migone, mi hanno detto ex scout, bestemmia, semest scout, semper scout, non puoi dire ex, io invece continuo a dirlo, perché non voglio dare ragione a Uos, Massimiliano, non voglio dare ragione, però penso che è un'attenzione da avere, non è scontato questo fatto qui, però anche ieri abbiamo capito cos'è, è un'ispirazione, è il modo scout di stare alla sequela di Cristo, è la spiritualità, è il richiamo a determinati valori, ok, le altri due termini, comunità, in questo anno e mezzo, ah, in questi due termini, scusate, questo cazzo, se qui ci fosse, allora, comunità, parola scontatissima per noi, ma che vuol dire nel Masci, io guardate, in questo anno e mezzo, sentendo le comunità Masci, è un sito di tutti, c'è chi parla di comunità, come se fosse una comunità di vita, ma io penso che nessuna comunità delle nostre è una comunità minimamente simile a una comunità di vita, c'è chi ne parla come se fosse un gruppo di preghiera, di vita spirituale, ma credo anche questo sia estremamente raro, c'è chi ne parla come se fosse, non è un gruppo di auto, non è una comunità di autoaiuto, non è una comunità di vita, non è una comunità di fede, è giusto usare la parola comunità? Forse la cosa più simile a questa è che sia un gruppo di amici, ma se penso alla mia comunità, a Monza c'è qui il Magista, abbastanza giovane, c'è anche della gente che si è conosciuta da poco lì, che senz'altro non è amica, c'è qualche amico, ma qualcuno non lo sarà. Ho capito che qualche comunità nella pratica diventa amici, dunque una comunità, sulla parola comunità, credo che Anna ci dice qualcosa, su come è nata, su come si sviluppa, su cosa vuol dire, ci dice qualcosa. E infine la parola educazione, la più scontata, ma la più difficile, perché quando io penso all'educazione, penso all'età evolutiva, e il 90%, il 99,9% della gente pensa all'età evolutiva, non pensa a noi, giustamente, secondo me, però voi mi direte, sei rimasto indietro di 30 anni, sei rimasto indietro di 30 anni, perché esiste la formazione degli adulti, e a me, io gli dico, a me lo dici che esiste la formazione degli adulti, io l'ho fatto come lavoro, sia come lavoro, sia nel lavoro, ne ho fatta tanta per essere aggiornato di formazione alle competenze, eccetera, ma, ma gli risponderei, vedi, in tutta questa formazione c'era un'intenzione, bene o male, c'era un'intenzione delle famiglie di mandare i ragazzi, dell'azienda di mandarti in formazione, di te, di fare formazione, c'era un'intenzionalità in questo processo, io, non penso che nessuno entri nel Masci per essere formato, non penso, dunque, attenzione, e qui mi rivolgo più a, a Gualtiero, attenzione a usare questa parola, forse dobbiamo essere attenti, di che tipo, di educazione stai parlando, di che tipo di educazione stai parlando, non usiamola, forse non stai parlando di educazione, di formazione, stai parlando di apprendimento, di continuare ad apprendere, l'apprendimento permanente è una parola che esiste, e dicono che sia una caratteristica di questa epoca, insomma, capite che il titolo già non è da prendere alla leggera, nasconde molte insidie e molte fake, e molte fake news. Prima di passare la parola a loro, ognuno di noi ha dieci, dodici minuti e poi c'è un secondo giro, voglio collegarmi alla tavola rotonda di ieri sera, voglio collegare questo dibattito alla tavola rotonda di ieri sera. ieri sera e mi collego così, c'è un nostro amico tra l'altro del Masci, non c'è qui però la sua comunità, è di un comune della provincia lombarda, che in una serata pubblica di cui ero presente io, un consiglio comunale aperto, lui era sindaco, era stato sindaco, aveva finito da poco, per due mandati, una scuola gli ha chiesto ma lei dove ha imparato a fare il sindaco? e lui si è alzato e ha risposto da caposquadriglia, bella questa risposta, dopo naturalmente l'ha dovuta spiegare, l'ha dovuta spiegare perché io che ero lì l'avevo capita, ma l'ha dovuta spiegare da caposquadriglia, però c'ho anche un altro ricordo, questo di quando facevo cooperazione internazionale, viaggiavo con un collega di quelli che gli piace parlare, io della mia vita personale uno mi deve un po' forzare, questo parlava e ho scoperto che questo qui aveva fatto lo scout e allora gli ho detto guarda io lo sto facendo e lui mi ha detto no, ma senti, ma lasciate, ma un'esperienza è stata molto bella, mi ricordo quella volta lì, mi ricordo quella volta là, mi ricordo quel fuoco, quel campo, però senti, è una roba da giovani, è una roba da ragazzi, non è una cosa da adulti, allora quanti sono questi capite, quanti sono questi che non hanno interiorizzato alla luce di ieri sera, di ieri pomeriggio, l'esperienza scavo, uno su due, due su tre, questo ci dovremmo chiedere, questo ci dovremmo chiedere, che ritengono, capite, ritengono che è stata una bella esperienza come se ne fanno tante, che gli ha dato qualcosa ma non gli ha, non gli ha, non gli è servito, non ha illuminato, non ha illuminato, dunque questo, non so quanti sono, io credo che sono tanti però, se pensiamo ai numeri, qualcosa ci dicono, poi ieri forse ci doveva essere a fianco di quelli lì una tavola rotonda di quelli che sono arrivati ai valori scavo senza aver fatto l'esperienza scavo, sono diventati, a parte che sull'uno su due ci sarebbe da chiedersi, ci sarebbe da chiedersi, ma chi è che ha sbagliato lì, ha sbagliato quello, era sbagliata la proposta scavo, era troppo, era troppo banale, troppo facile, troppo stupida, troppo cialtrona, o era lui che non ha fatto qualcosa che doveva fare, capite, questo ci sarebbe, questo si potrebbe, si potrebbe chiederlo, e poi ci vorrebbero gli altri, perché per esempio la sintesi che ha fatto Ganga, Ignazio Ganga ieri, dicendo che lui ha imparato dallo scoutismo la puntualità, credo che sia l'unico scout in Italia che l'ha imparato dallo scoutismo, nella gestione, o in qualche altra, capite, dunque, c'è sempre da capire come, come, come perché, ci sono certi effetti, e come non ci sono certi, certi effetti, sarebbe interessante avere la tavola rotonda di chi è arrivato ai valori scout, pare che metà di voi sia su questa strada, non so se sbaglio, Massimiliano, ma vedo che Massimiliano mi dà ragione, se il masch è vero che metà non vengono dallo scoutismo, vuol dire che sono arrivati all'avorioso ed economo, sono arrivati al, sono arrivati al, sono arrivati al, per strade diverse, che sarebbe interessante raccontare, no? Ok, dunque, bisogna capire come avviene questa interiorizzazione dei valori, come avviene dentro questa cosa qui, come è avvenuta dentro e come, anche perché, e concludo e passo veramente la parola a loro, se chiedessimo a quel capo squadriglia citato da quell'amico che adesso è nella lista degli amici di Beppe Sala alle elezioni, penso che tutti sappiamo ogni comunità massi si starà interrogando, avrà fatto un dibattito sulle elezioni del 3-4 ottobre, anche se magari non riguardano la sua città. Beh, se noi chiedessimo a quel capo squadriglia stai studiando da sindaco? Ma più semplicemente cosa stai imparando facendo il capo squadriglia? Lui direbbe niente nel 50%, oppure direbbe ho trovato un buon amico, oppure ho trovato la pasta asciutta giusta. Cioè, è tipico della nostra età. Io dico, un amico non scout diceva che dopo i 65 anni si fanno questo tipo di bilanci. Cioè, siccome uno capisce che non è tutto quello che aveva pensato si può realizzare, che deve stare su alcune cose, su altre l'ha messa da parte e non è una sfiga che l'abbia messa da parte. È normale ed è bello. Allora può pensare anche a che cosa rilasciare. A 65 anni parte l'età del rilascio e dunque devo fare anche dei bilanci, anche delle valutazioni, capire che cosa porto a casa, che cosa ho portato a casa da chi. Però, a quell'età lì, forse si fa anche prima. Se lo chiedessimo a uno staff di capi che con hanno preso dallo scottismo non direbbero certo quello che hanno detto ieri sera quei tre. Direbbero altro. Direbbero l'amicizia. Ho scoperto. Cioè, direbbero altro. Per cui, come funziona questo discorso qui è un problema. Allora, cerchiamo un po' di definizioni teoriche, di campo teorico, di esempi anche che ci aiutino con Gualtiero e con Anna. Hai bisogno di questo, no? No. Mi hanno attrezzato diversamente perché mi alzo, ti passerò dietro, sentiti tranquillo. Era il 1991 per rispondere non si sente niente, me l'immaginavo. Si sente così? Beh, ci hanno pensato loro. Allora, era il 1991 e io avevo già iniziato la bellissima esperienza nello scaudismo mondiale quando la conferenza, quindi l'incontro di tutti i delegati nazionali dello scaudismo si svolse a Parigi e anche lì noi incontrammo il sindaco, però era il sindaco di Parigi, all'epoca era Giscard d'Estenne e nel corso del colloquio a un certo punto di fronte a una schivania bellissima in noce Luigi XVI sicuramente e nel corso del colloquio dice vi voglio raccontare però questa abbassando la voce prendendo un po' l'aria da sornione tira fuori da un cassetto in basso un vecchio consunto quaderno dice vi racconto la mia più grande esperienza di assunzione di responsabilità che non è stata nella politica che non è stata nel matrimonio che non è stata nei confronti dei figli o degli studi era il suo quaderno di caccia quando era capo squadiglia degli Scud de France e disse io l'emozione più forte che ho sentito nella mia vita è quando il caporeparto io a 15 anni mi ha chiesto di guidare la squadriglia vi assicuro ci disse che quell'emozione mi rimbalza nella vita e quella mia capacità di sapere assumere la responsabilità e di ricevere l'onore di meritare fiducia io l'ho sentita fino ad oggi poi ha fatto anche ulteriore carriera politica questa cosa ha colpito tutti quanti quelli che erano lì perché dice caspita ma allora serva a qualcosa tutta sta roba che facciamo in giro ma non è finita e chiudo poi con l'esempio perché uscendo poi alcuni sono andati era la mattina presto ci ha ricevuto fuori degli orari canonici di ufficio siamo andati a prendere i giornali e il giornalaio vedendo il fazzolettone al collo di alcuni dei membri del comitato mondiale dice ma siete scout dice anch'io sono stato negli scout dice per me è stata l'esperienza più bella della mia vita e mi ha imparato attenzione a dire buongiorno prima di vendere ogni giornale perché mi interessa stabilire un rapporto cordiale con le persone ognuno porta i suoi problemi ma io a loro dico buongiorno a loro dico buongiorno allora è chiaro sto raccontandovi qualcosa di scontato però c'è un'altra domanda che nel discorso di roberto in qualche maniera mi intriga ed è di quella che vi voglio parlare e cioè quella della posizione che si ha negli organi ma nelle associazioni nelle singole nazioni tra lo scoutismo giovanile e lo scoutismo adulto possiamo parlare di educazione scout con i giovani e beh sì insomma via siamo passati quasi tutti sappiamo che cos'è stato e che cos'è è un timbro che in qualche maniera ci accompagna noi abbiamo la pretesa noi abbiamo l'intenzione noi abbiamo scritto per anni e per fare quel lavoro nel seminario me li sono letti quasi tutti abbiamo avuto la pretesa di pensare di poter fare e adopero ancora questa espressione di poter fare educazione scout per gli adulti la vera domanda è ma facciamo veramente educazione noi o riuniamo una serie di persone che hanno vissuto delle sane e belle esperienze nella loro vita se le raccontano ancora sanno stare in gruppo sanno aspettare per darsi la parola cioè sanno in qualche modo ancora vivere nello stile nella modalità tutto questo soltanto perché viene traslato dall'esperienza iniziale all'esperienza finale che sarebbe quella attuale e quindi futura può dirsi educazione ecco io oggi vorrei parlarvi di questo cioè che cosa avviene o deve avvenire perché qualcosa sia educativo cioè non è che siccome si fanno delle cose automaticamente si fa educazione non è che siccome incontriamo il testimone di un particolare valore chiunque esso sia automaticamente quello è un momento di educazione permanente non è che se ci riuniamo in gruppo o preghiamo insieme tutto questo rappresenta di fatto per ognuno di noi educazione oggi io vorrei in qualche maniera cercare di accompagnarvi attraverso una mappa che ci fa capire con dei concetti piuttosto semplici ma vanno un po' esplicitati tutti quanti che cosa avviene o deve avvenire perché un evento sia educativo che significa essere educativo cioè perché sia trasformativo perché chi sta lì dentro quell'evento dentro quell'esperienza dice o possa dire a distanza di tempo io attraverso quel che ho vissuto o ho fatto sono stato cambiato sono cresciuto mi ha in qualche modo trasformato se questo non avviene non c'è educazione se si uscisse di scuola parliamo di istruzione mutatis mutandis senza aver appreso la fisica dopo aver fatto 35 ore di fisica nel corso di un trimestre non c'è stata un'istruzione di fisica abbiamo ascoltato ma ascoltare è diverso dal apprendere dal saper fare l'educazione non riguarda l'istruzione è una cosa ben più completa se l'educazione c'è in qualche maniera deve poter provocare alcuni cambiamenti o deve essere l'inizio allora possiamo dire che l'educazione non è come diceva il mio aiuto capo quando ero nel branco uscendo dalle riunioni oggi sono stanco o educato come un pazzo cioè non c'è una azione concreta che possiamo definire educazione l'educazione è un processo è uno scenario è una modalità di essere di alcuni gruppi in particolare noi così li chiamiamo di alcune comunità che in qualche modo interrogano le persone e cercano di fare in modo che facendo il punto ognuno all'interno della propria vita dice toh non solo ci sto bene ma questa cosa mi aiuta poi vediamo su che cosa e come allora può essere educativo tanto quanto in ambito adulto relativamente all'ambito giovanile entriamo un po' nel contenuto qualcuno di voi ha seguito il seminario quindi abbiate pazienza vi chiedo scusa in anticipo ma risentirete lo stesso brodo forse con qualche accento di più basta che premo e parte il powerpoint mamma mia ci sono delle cose che appartengono tipicamente allo scautismo cioè dei verbi attivi attivi cioè che producono delle azioni che in qualche maniera identificano lo scautismo questo discorso che sto facendo adesso non lo perdete nell'attenzione perché io lo richiamerò esattamente per gli adulti ci saranno dei verbi attivi nella vita degli adulti che saranno molti di più molto variegati ma che in qualche maniera caratterizzano la vita dell'educazione degli adulti si può parlare di scautismo senza giocare? dire di no non sono tutti i verbi cioè non c'è la completezza di tutto ciò che si fa dello scautismo lo sforzo che abbiamo fatto nel costruire questo schema questo paradigma questa mappa del crescere nello scautismo è simbolico è un po' io lo dico sempre è un po' come la metropolitana se uno dovesse per una città come Parigi non come Roma perché è più semplice per Parigi o per Londra dovesse disegnare la metropolitana sulla mappa della città sarebbe difficoltosissimo perché devi attraversare le strade poi magari c'hai la chiesa poi c'hai il parco pubblico che hanno fatto? hanno preso un pezzo di carta hanno indicato delle stazioni tutte uguali per distanza non c'è tempo ricordatevi nell'educazione nella mappa non c'è un tempo non c'è uno spazio tra l'uno e l'altro c'è però una direzione se dovete andare da A B sulla mappa capite subito ci sono delle tappe ci sono delle tappe specifiche sapete sulla mappa quali sono le stazioni da attraversare se voi lo faceste sopra una carta geografica della città non capireste nulla però lì capite gli incroci ecco questa è una mappa nessuno mi venga a dire che ma come il tempo però potrebbe andare prima potrebbe andare dopo nel ragionamento mi sto facendo da solo il vaccino contro tutte quelle cose che voi potreste allora diciamo che senza questo lo scautismo non esiste vado veloce perché non ci interessa appartiene ai giovani purtroppo per noi allora giocare esplorare osservare costruire guidare affidare custodire promettere condividere servire raccontare vediamo se c'è un'altra celebrare allora diciamo che non è tutto lo scautismo ma se questi verbi non vengono coniugati all'interno dello scautismo forse di scautismo non si può parlare poi se vengono coniugati insieme se in qualche maniera sotto ognuno di questi possa esserci delle diverse categorie di attività se ci sono altri 25 verbi tutto viene bene diciamo che però senza questo di scautismo non se ne parla ma adesso veniamo a quello che ci interessa di più perché questo qui è come lo scautismo si fa Baden Powell ha avuto una unica preoccupazione che era relativa non solo al fatto di dover comunicare ma anche al fatto di dover mettere nelle mani dell'idraulico del manovale dell'ingegnere o della maestra d'asilo un qualcosa che fosse semplice adatto vi dico come fare ma non ci ha mai detto perché quel che facciamo è educazione oggi ci permettiamo di poter fare questo tipo di discorso perché da Baden Powell dalla Montessori e via dicendo è iniziata la scienza dell'educazione cioè l'osservazione di ciò che avviene nell'ambito educativo da un punto di vista scientifico non poteva Baden Powell darci la pedagogia del suo metodo perché il metodo è come fare le cose la pedagogia è perché le cose sono educative la strada appartiene al metodo può esistere nella Branca Rover qualcosa che non comprenda la strada no perché la strada è educativa è la pedagogia giocare di per sé ti posso dire come farlo ti posso dire quali sono i trucchi per far riuscire meglio tutto questo ti posso anche raccontare dietro qual è la metafora la filosofia che c'è ma perché giocare sia educativo appartiene alla scienza dell'educazione che cerca di spiegare perché le cose che facciamo sono o possono diventare trasformatrici per noi cioè se io vi dicessi che la comunità ma già passo alla seconda parte del discorso ma tanto per farvi capire perché è importante che noi cioè se io vi dico è importante ed è fondamentale strumento dell'identità educativa del Masci la comunità vi direi come si fa l'educazione nel Masci ok se io come oggi cerco di fare con Anna cerco di raccontarvi perché lo stare in comunità può essere elemento di trasformazione di cambiamento e di aiuto nella trasformazione di ciascuno di noi sto facendo un discorso di carattere pedagogico capite che oggi a noi forse di metodo ci interessa meno noi oggi cercheremo di scoprire perché quello che facciamo deve essere educativo perché attenzione perché se facciamo tutti i discorsi che io mi sono andato a leggere nel Masci di riflessione io vedo che c'è sempre un'indicazione sul come e sul che cosa poche volte c'è il come quel cosa e quel come possono influire nel cambiamento delle persone non sempre questo avviene però io devo scoprire come rendere educativo quel che facciamo e facciamo tante cose diverse e le facciamo anche in modo diverso allora questo torniamo ai giovani vado veloce c'è un qualcosa che però è molto importante tutte quelle cose lì noi non le raccontiamo nello scavismo non le raccontiamo la caratteristica dello scavismo è che le fa vivere è che le fa vivere il 90% della nostra educazione alla fede sono esperienze di fede il 90% delle nostre capacità di osservazioni le sviluppiamo attraverso lo scaudismo attraverso delle esperienze lo scaudismo è fatto di proposte concrete che generano situazioni educative se il capo non ha chiaro questo è come se fosse un maestro d'asilo o un animatore di una qualsiasi comunità infantile giovanile o post giovanile che porta in montagna le persone tu devi sapere che cosa stai facendo quando fai strada capo altrimenti sei come una guida alpina che mi insegna soltanto ad andare in montagna e siccome lo scaudismo non serve ad andare in montagna ma serve a far crescere le persone attraverso l'esperienza della montagna ecco che allora il discorso diventa pedagogico ma questo sta nella testa del capo mi spiego e quindi l'esperienza è fondamentale noi tutta la vita da scout la trascorriamo ricevendo una serie di proposte di progetti educativi si chiamava vi ricordate li chiamano tuttora in questo senso dopo c'è un altro giro però devo finire lo schema il problema il problema è che c'è una cosa molto importante veniva richiamato stamattina dal nostro assistente lo scaudismo è un un richiamo concreto alle sensazioni delle persone cioè ai sensi ai sensi Baden Powell per chi conosce a letto ha vissuto lo scaudismo ci fa addirittura dei giochi di Kim cioè cerca di dare anche ai ragazzi delle esperienze nelle quali loro allenano i sensi perché la stanchezza perché il sudare perché il non sentirsi stanca perché il cercare di andare avanti anche nelle difficoltà appartiene all'essere fisico è l'uomo che sta nell'esperienza e poi prova qualche cosa perché prova la soddisfazione perché prova la gioia della comunità sono tutte emozioni che in qualche maniera aiutano nella crescita non dare non dare alla crescita il nome delle emozioni che si vivono significa non vivere le esperienze se tutti noi ci ricordiamo le esperienze scout non è perché le abbiamo fatte ma perché ci ricordiamo le emozioni vissute nel corso di quell'esperienza vado avanti l'emozione gli posso dare nome solo se io interrogo attenzione perché questo è molto importante soprattutto per gli adulti lo vedremo dopo perché appartiene che cosa provo che cosa ho fatto io nell'esperienza sulla strada che cosa ho fatto io nella comunità quante volte la comunità si ferma e riflette su questo l'interrogazione è quella che dà senso all'esperienza che faccio perché se io capisco che mi sono comportato male perché io capisco che io riesco a comprendere il compagno che nel corso della strada perché se io riesco a comprendere che il dolore la paura nell'ambito questo dà senso attenzione qui siamo già fuori del materiale guardate la ricchezza dell'esperienza scout l'esperienza che è assolutamente materiale e che chiunque potrebbe fare perché lo fa il cai per arrampicarsi in montagna come lo fa ma parlo del servizio come lo fa chiunque altro va bene facendo un servizio da noi acquista un senso e noi ci interroghiamo su questo senso perché ecco perché perché il senso ti conduce dal materiale all'immateriale allo spirituale noi su questo raggiungiamo un valore quello che chiamiamo valore è collegato all'esperienza che abbiamo fatto attenzione che entriamo nella fase adulta e il valore naturalmente entra in una tradizione in una cultura diventa fede credo attribuisco un senso e un valore sulla base di dove nasco se nasco in Indonesia sarà diverso dal fatto che nasco qui ecco perché quando a Baden Powell gli hanno chiesto ma scusa che rapporti ci sono tra lo scaudismo e la religione dice nessuno la religione è nello scaudismo e lo scaudismo porta a una spiritualità e ad una fede vi vado veloce perché se no mi trinciano su questo ma capite che questo qui è tutto un fare il verbi e sono la parte che riguarda il come è qui che Baden Powell si raccomanda è qui che ci sono le branche che danno stimoli diversi a seconda dell'età vi spiego? però tutto questo ha questo senso soltanto se c'è una dinamica e una intenzionalità educativa dell'educatore cioè se c'è quello che Demetrio per chi ha letto il documento o ascoltato il seminario chiama uno scenario bellissima immagine uno scenario educativo è chiaro vi rimando a Pranzini con la sua lo simbolismo nell'educazione scout e tralascio il simbolismo perché se no vengo cacciato come faccio ad andare avanti allora entriamo nell'età adulta ma nell'età adulta ma il Masci è un luogo in cui vengono proposte delle esperienze sì possiamo dire di sì certo non è quel tamburo battente che ci avevamo nel reparto nel branco o nel clan ma sì ma qual è la differenza tra i ragazzi che vengono volontariamente a vivere lo scautismo e vivono delle esperienze proposte e l'età adulta è semplicemente che l'età adulta cambia la propria esperienza con il vissuto cioè la vostra vita la nostra vita è l'esperienza che si trasforma concretamente in un vissuto tutto lo schema vedete che l'esperienza è stata sostituita dal vissuto e l'interrogazione dell'autoeducazione tutto quello schema precedente a cui noi siamo abituati va bene a vivere nella fase adolescenziale e giovanile diventa importante nel momento in cui nell'età adulta all'esperienza sentiamo ma cos'è sto vissuto non entro nei particolari quelli lì sarebbero i verbi attivi sarebbe la colonna delle esperienze va bene dategli un'occhiata quando uscite dallo scautismo cominciano i lutti cominciano i problemi di amore di sessualità cominciano la ricerca lo studio il lavoro cominciano la capacità di riflessione comincia una forma diversa di relazioni che stabilisco più stabili ecco questo è molto importante rendere educativa la propria vita in uno scenario educativo è l'identità fondamentale dello scautismo adulto quando si dice che si può la domanda di Roberto che si può parlare di scautismo di educazione scusate tra gli adulti noi scout possiamo dire che la pedagogia dello scautismo quella che ha ispirato anche se in alcuni momenti inconsciamente entra tranquillamente nelle nostre comunità abbiamo scritto e abbiamo intenzione di dire e di affermare che il Masci è un luogo di educazione addirittura permanente non la dite tutta di seguito educazione permanente educazione permanente costante questo significa che quello schema in alto la ricerca del senso di ciò che ho vissuto nell'esperienza e in questo caso nel vissuto deve essere una dinamica normale nelle attività Manicardi ci parlava ieri dell'esperienza del Cristo che di fronte al vissuto aveva la necessità di appartarsi riflettere parlare con il padre fare il punto della situazione per ritrovare il senso della propria presenza tra di noi lo ha fatto lui la via la verità la vita credo che sia importante per noi fare entrare l'educazione sto chiudendo fare entrare l'educazione all'interno delle nostre comunità all'interno delle nostre azioni parlare realmente non ipocritamente scusate il termine di educazione permanente significa saper coniugare in tempi come la mappa in tempi in modi in spazi in stile diverso questo schema o la comunità è uno strumento ne parlerà Anna le esperienze concrete che vengono proposte ne parlerà ancora Anna ci sono tante cose identificative ma l'aggregarsi non è masci ma il fare strada scusate non è masci ma il vivere la conoscenza di alcune persone testimoniano non è masci è di tutti è di tutti come montare tende non è scout tutti montano tende è quando montare tende incontrare persone affrontare tende a partecipare civilmente partecipare ecclesialmente diventa strumento anche e fondamentalmente della mia persona di rastronazione della mia persona che possiamo parlare di educazione per gli adulti chiudo dicendo che questa forma di personalismo è questo il richiamo al personalismo comunitario capite il gioco di Meunier qualcuno ha scritto giustamente tutto questo ma questo è il significato questa è la mutuazione che noi facciamo tra un pensiero una filosofia in una prassi educazione in quel che facciamo è identità del masci attenzione alla persona nell'esperienza e nel vissuto che lui vive anche negativo è identità del masci mutuato dal personalismo grazie scusate è un avviso tecnico che vi devo dare assolutamente perché serve per la funzionalità dei lavori allora dato che per i collegamenti in streaming youtube e per gli upload dei file stiamo utilizzando la rete aperta siete cortesemente pregati di non utilizzare la rete aperta perché se no cade e siamo impossibilitati a lavorare quindi per cortesia usate i vostri account personali grazie ieri come è stato ricordato abbiamo ascoltato le testimonianze di persone che sono cresciute come educati ed educatori nell'esperienza dello scautismo giovanile e che ci hanno fatto vedere sentire attraverso i loro racconti e la loro testimonianza quanto questa esperienza è rimasta nelle loro vite e ha segnato le loro vite qui tutti noi che siamo in questa stanza e pensiamo ai nostri fratelli e sorelle delle nostre comunità che sono a casa siamo persone che in età adulta hanno pensato e scelto di continuare o di cominciare una esperienza di scautismo vissuto da adulti e in una da adulti se noi siamo qui e lo scautismo adulto del Masci ha una lunga storia vuol dire che questa scommessa che la possibilità di vivere lo scautismo anche in età adulta è una scommessa che si può affrontare è una scommessa che nel tempo che non è stata definita e strutturata una volta per tutte quando Mario Mazza ha cominciato a lanciare quest'idea ma è un'idea e un'esperienza che si è costruita e si sta costruendo nel tempo nelle sfide del tempo nelle sfide permanenti e nelle sfide che il mondo in cui viviamo ci offre perché persone adulte scelgono di provare a vivere lo scautismo da adulti penso che sia una domanda che ciascuno di noi si pone che magari si ripropone quando ogni anno scout che comincia ognuno di noi si pone la domanda se continuare la strada o se cominciare questa strada noi vogliamo quando parliamo di Masci di comunità Masci e di scoutismo adulto parliamo e abbiamo in mente una condivisione di valori quelli incarnati nella legge nella promessa che sono gli stessi dei ragazzi condividiamo con tutto il movimento scout in particolare con il movimento scout cattolico un obiettivo uno scopo che è quello di formare di educare di diventare di essere buoni cittadini e buoni cristiani e persone significative nella nostra vita nelle nostre relazioni dove significazioni persone significative significa sicuramente persone che lasciano il segno che provano a lasciare il mondo un po' migliore di come l'hanno trovato ma significa anche che per essere capaci di lasciare un segno di essere significative in questo senso hanno fatto e fanno un lavoro attivo continuo consapevole libero di significazione della loro vita persone capaci come ci raccontava Gualtiero di guardare alla propria vita al proprio modo di essere nelle relazioni nel lavoro nei compiti nella chiesa nella parrocchia eccetera e di provare a dare un senso un significato ai frammenti ai tanti frammenti di cui è composta la nostra esistenza annodarli perché diventino un racconto bello e appunto sensato significativo chi è capace di disegnare un senso è una persona che forse può provare a lasciare un segno o sperare di poterlo lasciare nella storia dello scautismo maschi dello scautismo adulto fin dall'inizio ci sono degli elementi connotativi dell'esperienza del metodo scout di quel metodo scout inventato da BP e poi definito strutturato nello scautismo giovanile anche noi anche noi adulti del maschi abbiamo costantemente un'esperienza di vita di gruppo di vita all'aperto di imparare facendo nella concretezza delle esperienze di utilizzo del linguaggio simbolico che ci è tipico tutti noi indossiamo una parte di questo linguaggio simbolico che ci dà identità appartenenza e trasmissione di senso e dare un nome al senso che vogliamo dare alle esperienze che viviamo questi elementi sono elementi di servizio eccetera ci sono elementi caratteristici che ci accompagnano ed è vero che lungo tutta la storia del maschi ci siamo domandati e ricorsa alla domanda di come declinarli in chiave adulta oggi Gualtiero ed è la riflessione che stiamo provando a portare avanti in questo dal seminario in poi ci dice smettiamo oppure diminuiamo l'enfasi sul come si fanno le cose come si gioca ad adulti come si sta in gruppo ad adulti come si fa esperienze concrete ad adulti e proviamo invece a domandarci perché questi elementi nell'esperienza dello scautismo adulto hanno vita dignità e necessità per connotarci come adulti scout e come mai questi elementi sono il terreno elementi che costituiscono quell'ambiente educativo quell'ambiente quello sfondo educativo che ci permette di diventare attori significativi e significanti persone che provano a leggere i propri vissuti per imparare di nuovo a scegliere a decidere e ad agire nel tempo in cui vivono il primo elemento sul cui volevo riflettere con voi è l'elemento comunità la parola comunità riferita alla vita di gruppo nello scautismo l'abbiamo introdotta noi del masci nello scenario italiano la vita di gruppo nello scautismo giovanile usa i termini battuglia reparto branco cerchio staff equip direzione di unità è comparsa la parola comunità riferita ai capi vent'anni dopo che lo scautismo adulto l'aveva adottata come mai questa scelta questa connotazione dell'esperienza vita di gruppo tipica e caratterizzante dello scautismo per lo scautismo adulto da quasi subito prende il nome di comunità prende il nome di comunità perché se è vero che per far crescere un bambino un ragazzo serve un villaggio per mantenere una dimensione educativa autoeducativa e reciprocamente educativa nella vita adulta serve una comunità una comunità di pari una comunità di persone che pur di età diverse di condizioni e di esperienze diverse scelgono consapevolmente di condividere di condividere un cammino comunità è il luogo dove le l'individuo che non esiste forse diventa persona e diventare persona riconoscersi persona come diceva ricordava Gualtiero ce lo insegna il personalismo comunitario ce lo insegna l'umanesimo integrale è chi si riconosce cosciente libero responsabile ma in un sistema e in un'esperienza di relazione con gli altri è nata la necessità di essere comunità e di vivere l'educazione degli adulti dentro un contesto comunitario che poi cercheremo molto brevemente di capire come si realizza e si vive in tempi si veniva fuori da una parte dall'esperienza di totalitarismi che avevano portato alla guerra al massacri allo svilimento della persona dall'altra c'era erano tempi in cui c'era un marxismo imperante e che poi con tutto quello che è successo c'era una visione dell'uomo molto diversa dalla visione personalistica la visione personalistica è il modo di riaffermare una centralità della persona umana nella relazione con gli altri è il modo in cui davvero possiamo non essere individui nella massa ma possiamo pensarci come persone che si costruiscono e si conoscono e si esprimono nella relazione con gli altri in che modo questo si vive e si sperimenta nella comunità maschi la comunità maschi offre la possibilità agli adulti che vogliono continuare a crescere in un ambiente connotato come scout di vivere esperienze comunitarie che sono cantieri di costruzione e contemporaneamente esperienza di un'adultità condivisa sono cantieri le nostre comunità possono diventare cantieri le nostre comunità di convivialità nelle relazioni che vuol dire accoglienza che vuol dire un modo sereno e accogliente non giudicante di stare con gli altri di cui abbiamo tutti un estremo bisogno e desiderio che sono il luogo dove impariamo a non considerare l'altro un avversario un nemico un altro da noi ma un possibile amico se non addirittura un possibile fratello una possibile sorella cantieri di convivialità cantieri di competenza cantieri di competenza perché l'adulto è chiamato a stare al mondo come persona che fa una propria parte che esprime una propria magistralità questa magistralità questa competenza possono essere strumenti di competizione con gli altri di scalata sociale nella comunità masci possono essere strumenti di servizio e di formazione reciproca cantieri di competenza e di magistralità la comunità masci è ancora un cantiere di cittadinanza cittadinanza che è così importante perché viviamo siamo immersi in un contesto di vita democratico esiste una democrazia della delega ed esiste una democrazia della partecipazione la nostra repubblica il paese del quale vogliamo provare ad essere buoni cittadini è un paese che nella sua carta costituzionale afferma che siamo una repubblica democratica centrata sul lavoro cosa vuol dire? vuol dire che ciascuno di noi è cittadino se esercita attivamente la propria parte una propria parte secondo le sue competenze secondo la sua capacità di relazionarsi con gli altri noi siamo nelle nostre comunità possiamo essere cantiere e laboratorio di cittadinanza inserendo nella formazione alla vita democratica alla partecipazione democratica sociale e politica questa una dimensione educativa che nessun altro dà nemmeno la nostra chiesa quando ci fa i corsi di conoscenza della dottrina sociale della chiesa lì ci dà i principi ci dà degli orientamenti ma noi nei nostri cantieri nella nostra comunità cantiere impariamo l'ascolto dell'altro delle opinioni diverse delle nostre impariamo non solo la tolleranza ma l'accoglienza il confronto pacifico impariamo a progettare insieme le azioni che i cittadini a diversi livelli possono svolgere viviamo una educazione cioè affrontiamo il tema della cittadinanza non solo in termini attivi ma in termini educativi le nostre comunità sono cantieri ancora di creatività perché non siamo uomini e donne a una sola dimensione abbiamo bisogno di utilizzare di di esplorare tanti e diversi modi di dire di esprimere di comunicare il nostro cammino di interpretazione significazione di ciò che viviamo di ciò che sentiamo di ciò che crediamo in tutto questo una comunità maschi che prende sul serio il compito educativo che è la vocazione del maschi lo incarna in modo connotato dal punto di vista scout perché ci mette dentro vive crea un contesto in cui c'è la vita all'aperto il gioco i linguaggi la comunità eccetera vive crea un contesto in cui in modo intenzionale e strutturato ma anche in modo informale nella convivialità delle relazioni è possibile diventa possibile vivere quel processo di significazione sulle esperienze condivise e sui vissuti personali che rappresentano il nucleo pedagogico dello scautismo anche nell'età adulta essere cantiere essere comunità cantiere di cittadinanza di convivialità di competenza e di l'ultimo mi ricordo quello che ho detto questo cantiere questo laboratorio permanente tutto questo si vive si concretizza nelle esperienze che tutte le nostre comunità conoscono l'esperienza di servizio l'esperienza di strada campi uscite di vita nella natura di vivere la vita di fede non dobbiamo non stiamo parlando di fare cose nuove ma di fare ciò che sappiamo fare e ci piace fare con consapevolezza di ciò che serve di ciò che c'è dietro di ciò che queste esperienze costruiscono questo è il modo adulto di vivere l'imparare facendo caratteristico dello scautismo un imparare facendo che significa non solo imparare dall'esperienza ma cosa imparare dall'esperienza dal fare imparare a guardare ciò che abbiamo appena fatto ciò che appartiene alla nostra vita i nostri vissuti e dopo casomai lo riprendo per dare loro significato per capire chi sono io e perché sono al mondo e se ho fatto qualcosa di buono o se ho fatto qualche cosa che deve essere corretto e che cosa di nuovo posso fare da solo posso fare insieme agli altri questo questo modo di guardare all'esperienza delle nostre comunità nella loro concretezza e nella loro semplicità è un modo di giocare che ci fa pensare al metodo non come un modo di arrivare alla meta seguendo delle regole quello è un modo che non ci appartiene non ci appartiene non è questo non dobbiamo più aspettarci che qualcuno ci scriva un manuale di come si vive la comunità di come si vive all'aperto di come si vive l'educazione alla competenza di come si vive il servizio politico o sociale questo no non arriverà il modo che abbiamo di pensare che dobbiamo conquistare forse o diventarne consapevoli di pensare al metodo è pensare ad una proposta che costruiamo leggendo i segni dei tempi leggendo i contesti leggendo la realtà che noi persone che vivono la comunità siamo e ragionando in termini strategici pensando all'obiettivo e pensando che in quella strada nella strada per raggiungere l'obiettivo dobbiamo metterci in prima persona come attori di significazione attori di attribuzione di senso di valore a ciò che facciamo facendo pensare vivere consapevolmente questo è il personalismo comunitario radicato e concretizzato nell'esperienza delle nostre comunità e questo è il senso dell'attivismo pedagogico a cui lo scautismo adulto appartiene a pieno titolo ben consapevole che è la base la base per costruire percorsi di cittadinanza democratica di cittadinanza attiva nella nostra città ma anche nelle nostre chiese che oggi vogliono essere sinodali ma devono imparare come farlo noi possiamo come sempre come è nostra vocazione proprio perché abbiamo una vocazione educativa e la voglia di sperimentare di metterci in gioco essere dei degli apripista che questo potrebbe essere interessante abbiamo tempo fino alle 10 e un quarto giusto? 10 e 10? 10 e 12? 10 e 12? abbiamo tempo fino alle 10 e 12 dunque come avete visto il secondo giro vi ho detto che l'organizzazione era molto il secondo giro sarà un giro di battute il secondo giro sarà un giro di battute però devo dirvi la verità che personalmente sono molto convinto penso che sia importante l'attenzione che stiamo dando alla dimensione di educazione però vedo alcuni rischi sui quali vorrei farvi riflettere far riflettere i gruppi e far riflettere Anna e Gualtiero Gualtiero ha detto è anche io dico è anche oggi stiamo dicendo il Masci è un movimento di educazione tra adulti lui ha aggiunto di educazione permanente tra adulti a me non piace aggiungerlo perché la formazione permanente io preferisco parlare di apprendimento permanente che è un compito di tutti è un momento di educazione tra adulti secondo lo spirito scout la frase è accettabile che rischi vedo Gualtiero io vedo il rischio che le tue tabelle sul metodo diventino tabelle che le comunità Masci studiano le comunità Masci studiano e dicono osti qui ci dobbiamo interrogare perché al terzo punto c'è l'interrogare al quarto c'è quello ok secondo io vedo il rischio dell'imitazione dell'associazione giovanile purtroppo la metà che viene da lì ma anche gli altri mi dicono anche che spesso sono gli altri che hanno conosciuto lo scottismo tramite i figli sono degli ineguagliabili imitatori pare che non si possa fare una riunione senza cantare pare che non si possa fare una riunione senza cigiolini da attaccare pare che non si possa fare una cosa allora nelle esperienze nelle esperienze che ci hanno raccontato anche ieri sera il bello è che non c'era qualcosa che distingueva gli scout dagli altri l'hanno scoperto mentre facevano la riunione l'hanno scoperto durante il lavoro l'hanno scoperto dall'azione ma io mi libererei della necessità di dire che siamo scout e farei in modo che gli altri lo scoprano dalla vita attiva dall'azione l'imitazione dell'associazione giovanile anche qui anche qui oggi nei giorni di sacrofano per me è troppa com'è troppa com'è troppa il legame che i gruppi masci sul territorio io l'ho scoperto in quest'anno e mezzo vogliono avere con il gruppo giovanile scout ma chi te l'ha detto ma perché con tutti i link che puoi fare con la necessità che la società ha di oggi e che lo spirito scout porta di meticciare di incontrare altri di altre culture e di scambiare culture stamattina con Edo Martinelli a tavola parlavamo che se BP non avesse incontrato i boeri e la cosa in Sudafrica non sarebbe nata la proposta scout perché è lì dentro ma allora siamo dei meticci per gli italiani sono meticciati perché sono il popolo più incasinato d'Europa in termini di genetica lo scoutismo è il più meticciato perché nasce meticcio e noi facciamo i puri cioè non va bene legato all'associazione giovanile anche l'uso dei termini facciamo 15-20 minuti di passeggiata la chiamiamo strada ma diamoci una regolata offendiamo lo scoutismo giovanile in quel momento parere personalissimo secondo Anna ha detto delle cose molto interessanti però ha detto anche che per vivere lo scoutismo d'adulti si entra nel masci io penso che non sia il primo obiettivo non sia il primo obiettivo questo e non è che noi nella comunità masce dobbiamo fare ciò che sappiamo fare e ciò che ci piace fare dobbiamo fare ciò che dobbiamo fare perché la responsabilità è uno dei principali valori o sempre secondo me la responsabilità è quel è quell'ambiente a cui la comunità masce risponde è l'ambiente che si ritrova è la sfiga di quel posto che si trova è nei problemi di quella città di quel paese di quella nazione in cui si trova di quel mondo in cui si trova a queste bisogna rispondere con tutta la forza dell'ispirazione scout e con tutta la forza del movimento a me fa ridere quando uno dice siamo ridotti in dieci in comunità ma brutto scemo scusami il termine quando tu usi il termine scout e quell'ispirazione dei valori tu stai parlando di 38 milioni di persone in Italia è vero che non sono lì a darti una mano verissimo che non sono lì a darti una mano ma queste persone sono per gli altri sono un pezzo del tuo lavoro del tuo sforzo allora capite io partirei validissimo validissimo però attenzione a non farlo diventare il perché ieri che cosa ieri i nostri amici ieri sera ci hanno raccontato una visione di uomo e un po' di trafila di relazioni fra gli uomini ma la relazione tra gli uomini comportano una visione del mondo e della società e questo pezzo qui ragazzi questo pezzo qui noi adulti abbiamo gli strumenti per farlo culturali sono stati ricordati stamattina capite io traggo dallo scottismo una visione dell'uomo scao può essere può essere poi sappiamo che ci si arriva anche da altre parti ok traggo anche una visione delle relazioni tra gli uomini sì traggo e dunque traggo anche una visione del mondo della società mi ispiro e per questa e per questa combatto e per questa mi sento chiamato e responsabile non perché ho fatto quell'esperienza non perché ho fatto quell'esperienza poi quelle esperienze mi servono capite e dunque c'è un bellissimo fra l'altro c'è un bellissimo documento che io consiglierei di regalare a Natale ogni comunità ai propri soci che il documento che Papa Francesco aveva fatto preparare del patto educativo globale non so se argomenti ne ha parlato che è una rivista argomenti da solo per me vale il censimento io lo dico a cui si deve scrivere tu ricevi argomenti basta non dirmi cosa ti dà poi ti dà anche altre cose ma gli argomenti spero che qualcuno lo dica a Pandolfelli che ho detto questo però per dire per dire per dire capite lì c'è scritto una cosa lì c'è scritto una cosa poi non si voleva essere è rivolta anche a noi perché è rivolta a tutti i movimenti cattolici a tutte le associazioni educative cattoliche ai movimenti che fanno che si occupano in qualche modo di educazione cattolica lì Papa Francesco fa dire una cosa che gli anziani gli adulti scusate gli adulti sono gli uomini del sogno non sono i giovani i giovani possono essere delle illusioni possono essere e poi i giovani hanno un altro compito hanno quello del fare hanno quello di hanno quello di agire anche in nostra sostituzione gli uomini del sogno gli uomini della visione oggi manuali manageriali dice che si governa non si governa con l'organizzazione non si governa con gli strumenti ma i gruppi si governano con le visioni il magistere è un uomo di visione noi siamo uomini di visione tutti noi in quanto anziani siamo uomini di visione cioè uomini che sanno dare alla società ciò che dovrebbe essere capite quando io se lo leggete quel documento lì vi fa impazzire vi fa impazzire questo patto educativo globale e capite da questo punto di vista i valori anche questi ieri Manicardi ha detto e ho chiuso dopo ti lascio la battuta Anna e Paolo ha detto una parola bellissima la fede si può anche perdere i valori si possono anche perdere l'ottimismo si può anche perdere l'andare controcorrente si può anche perdere la responsabilità l'essere responsabile si può anche perdere nella vita e come si perde e non importa che l'ho vissuto l'ho vissuto l'ho interiorizzato e poi l'ho perduto perché? perché non l'ho manutenuto non l'ho manutenuto e manutenere un valore c'è un solo modo per farlo e mi pare che BP lo dica cioè con l'azione le virtù si alimentano con l'azione cioè il valore ha dietro davanti di fianco degli orientamenti gli orientamenti si traducono in comportamenti questa filiera signori questa filiera è pane quotidiano di una comunità vabbè noi crediamo in questo e cioè cosa vuol dire in termini di orientamento rispetto ai problemi del mondo e in termini di comportamento cosa vuol dire e questo è il lavoro capite questo lavoro qui non c'è nessun manuale che lo fa al posto nostro e questo è il modo nell'azione il modo con cui manutengo quel valore o lo perdo o dopo un anno due anni dico oh cavoli oh cavoli non siamo più democratici non siamo più non abbiamo più fede non abbiamo più un cavolo per forza non hai fatto manutenzione ma dunque una risposta e poi due slogan che però rimetto a chi ha responsabilità politiche nella sala perché dal suo punto di vista sono un consulente affittato per l'occasione allora la risposta è che non vorrei che qualcuno pensasse che quello che io ho presentato è lo scautismo non che lo scautismo sia tutta un'altra cosa quello che io ho presentato è la lettura della scienza dell'educazione relativamente alla pedagogia scout che è qualcosa che è qualcosa di diverso nella sua realizzazione concreta quindi è chiaro che io non porterò mai uno schema di questo genere all'interno di una comunica capi se non attraverso delle raccomandazioni che riguardano i minimi dettagli di una intenzionalità educativa relativamente alle attività che svolgono perché e qui veniamo al primo slogan che vorrei lasciare perché se è vero che lo scautismo quello giovanile attraverso porta l'educazione all'interno dell'esperimento scusate il termine delle esperienze del fare le esperienze perché in fondo non si fanno cose originali ormai oggi poi più di tanto all'interno dello scautismo ma l'identità dello scautismo è che quelle cose la natura l'andare in grotta il camminare il vivere diventano educazione e allora la forza educativa dello scautismo è quella di essere un laboratorio di ricerca di significato di valore di senso in quello che viene proposto mutatis mutandis masci voi che comandate nel masci direi che il masci cerca di portare l'educazione all'interno dei vissuti degli adulti cerca di portare l'educazione all'interno dei vissuti degli adulti perché si può vivere anche senza utilizzare in termini di trasformazione quel che si vive quanti matrimoni si spengono perché non ci si sente e non si prova e non ci si interroga sulla propria presenza all'interno della relazione quante relazioni si guastano anche da un punto di vista umano al di là di quello affettivo ma quante vocazioni si perdono quando si comincia a dare tutto per scontato relativamente al rapporto con Dio io ho avuto una fortuna incredibile e chiudo che è stata quella di incontrare quando ero segretario generale della conferenza cattolica dello scaudismo come vescovo di Buenos Aires e come responsabile della pastorale giovanile in Argentina Francesco era Monsignor Bergoglio per me andammo a cena insieme dopo un incontro che ci fu a Roma alla casa internazionale del clero la cosa è stata raccontata anche sul giornale del Masci mi ricordo da Giovanni Morello perché io poi ho perso i contatti è venuto tanto tempo prima poi a un certo punto ho visto questo individuo Bergoglio che veniva nominato Papa me l'hanno dovuto mi hanno dovuto telefonare dal UOS ma da Ginevra perché dicevo guarda che quello è quello con cui hai parlato e hai fatto porca miseria dico un errore però vi dico questo perché perché mi ha lasciato una frase quella sera in questa cena fatta insieme a Roma un buon ristorante che lui conosceva e ha voluto che ce lo riportassi la Taverna Giulia è una buona forchetta vi garantisco perché disse e io me la segnai me la segnai curate diceva degli scout e approfondite ciò che siete come ciò in cui credete curate e approfondite ciò che siete come ciò in cui credete vision vision eccezionale un messaggio che ha dell'educativo perché ciò che sei lo capisci quando sei impegnato a ritracciare costantemente la tua strada il senso di quello che vivi come ciò in cui credete perché potresti perdere la tua vocazione andando alla ricerca di chissà quali esperienze o allontanandoti dalla realtà ma che bello ancora manicardi ieri quando ci dice che è l'umanità del Cristo la vera testimonianza dell'uomo di Dio verso l'uomo è il suo costantemente chiedersi i perché ed è bello perché poi in un libro eccezionale sui perché e chiudo qui Gesù si scopre che di fronte a oltre 1200 domande che riceve diverse nel Vangelo lui dà normalmente contate diverse soltanto 300 risposte e fondamentalmente le sue risposte sono il perché di cui la prima che la dà più spesso è ma perché non mi capite lui si domanda ma com'è possibile vi scelgo vi dico delle cose adopero le parabole faccio cose che non avrei mai fatto in vita mia non avrei mai pensato di dare la vista ai ciechi e voi non mi capite perché voi non mi capite perché non vi fermate a riflettere su quello che state vivendo questa la riflessione sul vissuto è il motore dell'educazione secondo me nell'ambito adulto grazie come è stato detto io ho la fortuna di lavorare come coordinatrice di un centro socio-occupazionale per persone in età adulta nostri coetanei che sono diventate disabili hanno acquisito una grave disabilità in seguito a una grave cerebrolesione lavorare con queste persone nella quotidianità delle esperienze che condividiamo il lavoro protetto il laboratorio di canto il laboratorio di creatività l'attività fisica adattata i laboratori di cittadinanza lavorare con queste persone a cui le circostanze della vita hanno dato letteralmente un colpo in testa che gli ha cambiato la vita in modo definitivo e radicale mi ha fatto molto pensare ogni giorno mi fa pensare quando io vedo e accompagno queste persone per percorsi molto lunghi non per percorsi brevi a volte percorsi che perdurano per tutta la loro vita quando accompagno queste persone quando le vedo vivere quando le vedo condividere la loro quotidianità con gli altri con altri con gli stessi tipi di problemi quando vedo persone che hanno perso tantissimo e che a poco a poco recuperano il senso della loro vita la voglia di vivere lo stesso racconto che ciascuno di loro fa di ciò che è capitato e di ciò che significa che ha significato nella sua vita non solo in termini di disgrazia ma di opportunità di sperimentare un se stesso nuovo in cose nuove in cose inedite in relazioni più autentiche che mai avrebbe pensato di vivere nella sua vita precedente io mi dico la scommessa dell'educazione dell'adulto se in situazioni così pesanti ed estreme da dei risultati straordinari in termini di non di guarigione queste non sono persone che guariscono che tornano sane anche se tutti i loro sogni se essi sono protagonisti li vedono in piedi e sani quelli di prima perché l'identità forte rimane quella che si è formata prima del trauma quando vedo che queste persone riescono a riacquistare una padronanza del proprio vivere nonostante quello che il destino gli ha messo addosso penso che il vero senso della vita è quello che un po' scriveva Etty in una pagina del suo diario poco prima della deportazione diceva ho capito che non sono padrona e non posso pensarmi padrona delle circostanze in cui vivere però resto una persona libera perché ho la responsabilità e la possibilità in qualsiasi circostanza anche quelle che non voglio non mi piacciono non ho scelto e mi vengono imposte di mantenere la rotta di mantenere il mio giudizio orientamento interiore e questo significa tenere viva scriveva te Dio dentro un pezzetto di anima tu non mi puoi aiutare cambiando le circostanze ma io se ti aiuto a vivere in me aiuto la mia vita a non perdere significato ci aiutiamo reciprocamente nella significazione nel fare spazio a questo margine di libertà che in qualsiasi vita resta allora sono assolutamente convinta che il machine non esaurisce e non può esaurire non ha la vocazione nelle forze di esaurire le potenzialità che l'educazione scout può dare non è l'unico luogo in cui i valori l'esperienza di chi è stato scout o di chi condivide determinati valori può esprimersi e poi giungere a pienezza però penso che chi come noi ha scelto questa esperienza e ci prova a viverci dentro ha una ricchezza in più una ricchezza in più ha avuto un dono e questo dono va va declinato non siamo soli riconosciamo abbiamo il dono di avere altri che condividono valori che condividono esperienze che hanno voglia di camminare insieme abbiamo delle potenzialità di insieme fare quel processo di apertura di un varco nel nostro cuore nella nostra sensibilità nel nostro giudizio nel nostro pensiero un varco di libertà nel raccontare nel leggere ciò che viviamo ciò che abbiamo vissuto ciò che potremo vivere con in modo attivo responsabile e cosciente questo è il dono che un'esperienza condivisa con fratelli e sorelle scout può farci e può diventare un dono anche per gli altri che ci incontrano e questo è l'augurio che faccio al Masci che c'è ma anche al Masci che può esserci luogo di significazione e di libertà grazie Maurizio diamo prima qualche notizia tecnica ovviamente allora tutti voi avete ricevuto dai vostri segretari regionali due bigliettini allora stamattina prendete il bigliettino bianco dove voi avrete segnato sicuramente il numero del gruppo che va da 1 a 16 perché abbiamo creato 16 grazie 16 gruppi di lavoro quindi ognuno accompagnato da Maurizio che ora vi spiega andrà appunto nella sala dove ci sarà il numero in cui vi trovate mentre pomeriggio poi lo diremo ancora meglio sarete divisi di